La legalità non è un idolo ma un mezzo per ottenere la giustizia sociale. Sono parole di Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, che ben riassumono lo spirito dell'associazione e dal concorso Segni e parole per la legalità in memoria di Paolo Cereda, coordinatore provinciale di Libera, scomparso prematuramente lo scorso settembre. L'iniziativa promossa dalla Fondazione Comunitaria delle Chiese è stata rivolta alle scuole della nostra provincia. Agli studenti è stato chiesto di cimentarsi e produrre un elaborato creativo sui temi della partecipazione, della responsabilità sociale, dei valori della legalità democratica e della cittadinanza attiva, della pace e della giustizia sociale. Paolo Cereda ha collaborato con noi su Wall Street e su altre iniziative che riguardano i beni sequestrati dalla mafia. Io ricordo che le nostre fondazioni sono state presenti proprio nel recupero le querce di Mamre, poi l'appartamento di Via D'Amello, la pizzeria Giglio, Wall Street sicuramente e un appartamento Olginate. Questo concorso rientra nella politica della fondazione, cioè di stare vicini alle scuole. Noi è il terzo anno già che lanciamo dei concorsi nelle scuole, prima l'abbiamo fatto sull'alimentazione, poi sui beni comuni, poi sui musei vicino a casa eccetera e quest'anno abbiamo lanciato anche quello sulla legalità. Va detto che quest'anno sui due concorsi che abbiamo lanciato più di 1600 ragazzi hanno lavorato su questi progetti. L'importante è entrare nella loro mente, far capire che cosa esiste di buono, creare la solidarietà, creare la convergenza fra di loro, soprattutto nella difesa dei valori fondamentali. La risposta delle scuole non si è fatta. Attendere su 26 elaborati giunti, 13 delle secondarie di primo grado e altrettanti 13 delle scuole secondarie di secondo grado, 5 sono stati scelti e premiati in una cerimonia nell'aula magna dell'Istituto Fiocchi di Lecco, alla presenza dei genitori della moglie e dei figli di Paolo Cereda. Ad aggiudicarsi il concorso la classe seconda A dell'Istituto Comprensivo Don Ticozzi di Lecco. Gli studenti hanno realizzato un giornalino con spunti e riflessioni sui temi al centro dell'iniziativa. Premiata anche la seconda F dell'Istituto Comprensivo Stoppani di Lecco che, con l'aiuto dei professori, ha scritto una canzone rap sulla legalità. Tre le classi di scuole superiori premiate. La prima liceo classico dell'Istituto Leopardi di Lecco che ha proposto un reportage sui luoghi confiscati e la criminalità organizzata in provincia di Lecco. La terza M del liceo musicale Grassi di Lecco che si è cimentata in un racconto corale sul conflitto fra legalità e giustizia. E infine la seconda A del Centro di Formazione Professionale di Lecco a indirizzo agricolo e grafico. Una parte degli alunni ha scritto racconti sul tema del concorso, diventati poi un libro game, altri hanno disegnato una t-shirt e infine i ragazzi dell'indirizzo agricolo hanno curato dei ruoli della pizzeria Fiore, locale sorto dalle ceneri dell'ex Wall Street sequestrato negli anni 90 al clan Cocco Trovato. A ogni classe è stato corrisposto un buono del valore di 1000 euro da utilizzare per l'acquisto di attrezzature, attività didattiche e visite di istruzione.